Posso dire poco e niente, l'unica cosa che magari mi viene proprio dal cuore è che penso che questo personaggio oltre a creare un po' di casino anche un po' nella vita di Mina, un po' tanto, eh? Penso possa portare tanta 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 emozione, penso che racconti una storia molto bella e molto attuale e nulla, grazie per l'opportunità, grazie a tutti voi per l'opportunità perché davvero l'ho sentito proprio nell'anima questo personaggio e penso che lo porterò a vita con me e ho conosciuto una grande.